ADN Kronos Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno a tutti e a ciascuno, da Gianna Andrea Carreri. Oggi è mercoledì 28 febbraio e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Beatrice Luzzi. La prima finalista di questa edizione di Grande Fratello è Beatrice! Alfonso Signorini ha annunciato così agli inquilini della casa del Grande Fratello che Beatrice Luzzi è la prima finalista selezionata per questa diciastettesima edizione. Scelta dal pubblico con il 60% dei televoti espressi. A discapito di Grecia Colmenares, 61 anni, venezuelana, star delle telenovelas. Di Rosy Cint, 37 anni, milanese, chef. E di Massimiliano Varrese, 48 anni, romano, ballerino, attore, regista. Una vita in tv, quella di Beatrice Luzzi, ben prima di entrare nella casa. Attrice, regista, autrice e attivista, classe 1970, nata il 14 novembre a Roma sotto il segno dello scorpione. Una vita in tv, ma non solo per la 53enne finalista del Grande Fratello che ha persino calcato un set insieme a Madonna. Ma procediamo con ordine. Liceo classico al Mamiani, istituto romano, culla delle contestazioni studentesche, del 1968. Poi laurea in scienze politiche, con lode, alla sapienza. E stegge di due anni alla direzione generale per gli aiuti umanitari della Commissione Europea a Bruxelles. Beatrice Luzzi sembrava destinata a una carriera lontana dal mondo dello spettacolo. Ma la passione per la recitazione, nata quando era al liceo, prende piano piano il sopravvento. Già, al liceo, nel 1985, è fra i giovani interpreti di Più giallo di così. Scritto e diretto da un giovanissimo regista irlandese. Un testo messo in scena nell'ambito di uno dei laboratori teatrali liceali più antichi d'Italia. Nato nel 1982, dopo la parentesi a Bruxelles, Beatrice lavora come utrice per diversi programmi Rai. Interpreta intanto alcuni spot pubblicitari. La svolta arriva con una soppopera, Vivere, successone da oltre 5 milioni di spettatori per Canale 5. Nelle prime stagioni, successone dal 1999 al 2001. Proprio quelle cui lei ha partecipato, nei panni di Eva Bonelli. Il personaggio di Eva sembra cucito addosso all'attrice. Una donna forte, moderna, disinibita, che impatta con forza sul pubblico del daytime. Quello che guarda la tv a cavallo dell'ora di pranzo. Un pubblico in gran parte femminile, che la vede sul piccolo schermo per 466 puntate, una dopo l'altra. Numeri e successo non imprigionano Beatrice Luzzi, che dopo Vivere colleziona una bella varietà di impegni lavorativi e di impegni civili. Il più titolato, ma in fondo anche il più deludente, è la condivisione con Madonna, proprio lei, del sette di Travolti dal destino. Remake firmato dal pur efficace Gay Ricci nel 2002 di Travolti dall'insolito destino nell'Azzurro Mare di Agosto. Commedia Agra, l'originale di Irina Vermuller del 1974, con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini, protagonisti di un'assolata lotta di classe in salsa erotica su un'isola deserta. Rifacimento insipido, quello del 2001, con Madonna al posto della Melato e Adriano Giannini al posto del suo papà. Il remake incassa ben cinque Radia Wars, praticamente il contrario dei premi Oscar, ovvero peggior film, peggior attrice protagonista, Madonna, peggior regista, peggior coppia, Madonna e Giannini Junior, peggior remake. Per sua fortuna Beatrice Luzzi ha una particina ina ina, quella di una donna ricca del tutto marginale nella vicenda. Piccolissimo ruolo, piccolissimo coinvolgimento nel flop, anche al botteghino del film. A proposito di star internazionali, a Beatrice Luzzi ha attribuito un flirt nel 2004 con il collega attore Gerald Butler. In carriera altri tre i film, una quindicina, le produzioni televisive, fra singoli episodi e partecipazioni più durevoli, con titoli di primo piano come il Marsciallo Rocca, Don Matteo, i Cisaroni, Rex, un posto al sole. Ma il primo amore non si scorda mai e lei il teatro non lo ha scordato. Dal 2000 in avanti si misura con classici e testi suoi, spesso firmando anche la regia. Un percorso, quello teatrale, che la vede dialogare con mondi apparentemente lontani dal teatro, come l'interpretazione di Poliziotta per amore, scritto da Nando dalla Chiesa, molto più saggista che drammaturgo, o la regia di Le donne erediteranno la terra, scritto e interpretato da Aldo Cazzullo. Storie di donne scritte da un uomo. Il teatro come impegno, insomma, e del resto lei l'impegno sociale e politico lo declina anche direttamente. Dal 2007 con Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, preseduta da Don Luigi Ciotti. Nel 2011, dopo molto altro, sostenitrice della campagna referendaria di Italia dei Valori contro privatizzazione dell'acqua, ripristino del nucleare, legge sul legittimo impedimento. Passioni civili Poco si sa, invece, delle sue passioni private. Un ex, il giornalista Alessandro Cislin, insieme dal 2007 al 2019, due figli, Valentino ed Elia, e tanta, tanta riservatezza. Proprio i due figlioli sono andati a trovare la mamma al grande fratello, insieme al cane Simba. Un momento bello. Poi è arrivato un momento molto brutto, la morte del padre di Beatrice, l'architetto Paolo Luzzi. Morte che ha interrotto la sua partecipazione, poi ripresa, al grande fratello. Protagonista nella vita, protagonista nella carriera, ora protagonista al grande fratello. Beatrice Luzzi. Molto più persona che personaggio. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast, iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altri notizie, ultima ora e approfondimenti su ADN Kronos punto com. Grazie.